Ciao a tutti e benvenuti in questo corso su V-Ray per SketchUp. Per seguire il corso potete scaricare in versione di prova sia SketchUp che V-Ray da SketchUp Italia e V-Ray Italia.it. Link in descrizione. Sono Marco Chiarello, un architetto specializzato in SketchUp e in V-Ray e con questo corso vi accompagnerò nell'utilizzo del software con lezioni brevi ma complete. Lezione 18 su Scatter, la copia randomizzata di oggetti nel modello. Proseguiamo la nostra carrellata fra gli oggetti di V-Ray facendo un salto fino a Scatter che ci permette di aggiungere oggetti all'interno del nostro modello in maniera veramente comoda. Si tratta degli ultimi due pulsanti della barra di strumenti V-Ray Objects Scatter Over Selection e Scatter Viewer quindi la possibilità di attivare o disattivare l'anteprima che può pur sempre rallentare la visualizzazione il fatto di vedere tutti questi oggetti che possono essere centinaia o migliaia di oggetti copiati può rallentare la visualizzazione possiamo scegliere se lasciarlo attivato oppure no alla visualizzazione. Per poter applicare lo Scatter bisogna andare a selezionare un elemento che può essere una superfic- o meglio un gruppo o un componente oppure anche una sola linea. In questo modo potremmo copiare tutta una serie di elementi come questi cespugli qui che ho appositamente lasciato sul retro dell'abitazione e andarle a copiare randomizzati lungo questa linea. Potremmo anche copiarle se volessimo su tutta la superficie del giardino facciamo un po' di prove proprio per capire come funziona lo strumento. Io partirei dal giardino quindi seleziono il gruppo clicco Scatter e lo Scatter gli è stato attribuito un po' come gli era stato attribuito il furo in precedenza adesso c'è pure lo Scatter attribuito al gruppo che ricordiamolo è ritagliato in modo tale proprio da identificare soltanto la parte inerbita proprio degli esterni del giardino. Quindi una volta che lo Scatter è stato creato nel Asset Editor posso aggiungere oggetti guests, cespugli, sassi, persone, alberi, foglie qualunque cosa mi venga in mente purché sia un oggetto già presente nel modello come questi tre semplici componenti qui sono tre cespuglietti che ho scaricato dalle gallerie online 3D Warehouse non particolarmente pesanti quindi possiamo tranquillamente tenerli lì basta averne una copia di ciascuno e aggiungerlo come ospite. cliccando l'apposito pulsante e lo ripeto seleziono l'oggetto add guests quindi sullo Scatter lo faccio di tutti e tre a questo punto lo Scatter adesso sa che deve andare a copiare in maniera casuale questi oggetti in giro per tutta la superficie con tutta una serie di parametri che ci permette di regolare il numero la rotazione le dimensioni veramente rende facilissimo conferire questo aspetto così naturalistico e apparentemente casuale all'interno del modello all'interno dei nostri rendering per vedere gli oggetti in anteprima dovremmo andare a cliccare l'ultimo pulsante e un messaggio ci avverte che c'è stata una migrazione nelle versioni recenti di SketchUp c'è questa nuova finestra che si chiama coperture chi non la vedesse dovrebbe andare nel menu finestra pannello predefinito e attivare dov'è dov'è coperture non so perché l'abbiano tradotto in questo modo è una finestra che appunto contiene determinate opzioni variabili che i programmatori possono scegliere di andare a posizionare lì ecco questo messaggio ci avvisa che dobbiamo andare ad attivare la visibilità dello scatter nella finestra coperture overlays in inglese quindi se lo clicco ora eccoli qui tutti questi cubetti che vediamo un po' in trasparenza danno l'idea di dove e quanti e come vengono ruotati o scalati tutti questi oggetti ripetuti in giro per il giardino mi rendo subito conto che sono troppi quindi potrei andare a ridurre il conteggio max count o meglio instances count attenzione ci sono talmente tanti parametri che a volte faccio un bel po' di confusione diciamo 100 dai così li vediamo bene random distribution possiamo fare in modo che ci siano delle limitazioni su quanto vengono ruotati quanto vengono scalati di quanti gradi vengono girati avviamo render di prova per farci un'idea di quale sarebbe dunque il risultato eccoli qui in effetti forse conviene lavorare con il render iterativo in corso per riuscire a farsi un'idea del risultato che sta avvenendo fuori chiaramente stanno cozzando con alcuni degli oggetti nella scena quindi con i piastroni con la pavimentazione attorno alla piscina mi stanno cozzando col muro di confine e anche qui come abbiamo visto per il furra nella lezione precedente possiamo andare ad inserire delle limitazioni quindi nel campo density possiamo andare a inserire la texture distance e dirgli che questo gruppo quello dei piastroni deve essere escluso deve essere escluso anche inside solid in modo che non venga proprio in alcun modo toccato l'oggetto neanche da un neanche solo parzialmente dagli oggetti che vengono copiati seleziono anche il muro di confine aggiungo pure lui e quindi questi oggetti sono copiati casualmente un po' su tutta la superficie attenzione aggiungo anche questo muretto qui di destra se non sbaglio è un altro gruppo o un altro componente no potrei aumentare la distanza eventualmente che mi sembra che sia in pollici se vogliamo fare in modo che si si distanzino il più possibile dagli elementi da cui devono rimanere separati ok ora non possiamo sapere dove verranno posizionati questi oggetti ma possiamo cambiare il seed torno su di un livello con la freccia che sto indicando ora sullo schermo che mi permette di tornare all'elenco completo dei parametri dello scatter lì dove trovo seed posso cambiare valore che vuol dire riproponimene un altro riproponimene un altro riproponimene un altro fino a che non trovo la distribuzione che mi sembra più azzeccata è pur sempre casuale pur sempre un po' imprevedibile ma almeno me ne sta facendo vedere un'alternativa che magari casca meglio con il mio scopo ad esempio questo potrebbe essere un posizionamento dall'idea di una villa un po' troppo tropicale con tutta questa vegetazione in giardino quindi io questo scatere ho intenzione di toglierlo e così vediamo anche come fare questo passaggio che non è da dare affatto per scontato ma è molto semplice lo elimino dall'elenco e viene tolto anche quindi quel componente fatto di linee tratteggiate che abbiamo visto in precedenza delete riavvio rendere interattivo e di tutte queste piante in giro per il giardino non c'è più traccia quindi veramente molto semplice posizionarlo molto semplice anche poi sbarazzarsene lascerei invece quello copiato lungo una linea che trovo che sia veramente comodo utile è una novità dell'ultima versione di V-Ray quindi seleziono la mia linea se volessi potrebbe essere una linea che fa un po' tutto il giro di tutto il lotto ma questo tratto qui a me basta per la mia inquadratura sud ovest quindi seleziono la linea aggiungo lo scatter seleziono lo scatter e gli aggiungo i guests 1 2 e 3 gli vado a specificare che si tratta di una coppia monodimensionale cioè lungo una linea eccolo qui vado giù nella mia inquadratura anzi prima ve lo guardo un pochino dall'alto questa spaziatura va beh che già un po' le anteprime danno l'idea allora riduco la spaziatura fra gli elementi spacing altrimenti diventano troppo troppo lontani mi sta bene che siano un po' sovrapposti proprio per dare l'idea di un cespuglio così abbastanza scomposto però pur sempre confinato alla parte lì di fondale diciamo del giardino potrei andare ad alterare un po' la rotazione la quantità di rotazione imporre una rotazione solo di 90 gradi o altre riferito alla scalatura vorrei che ce ne fossero alcune di molto più grandi altre molto più piccole veramente super super customizzabile torno nella mia inquadratura e avvio il render interattivo per farmi un'idea un po' di questo risultato noto subito che sono un po' troppo distanziate e caso vuole ce ne sono tre di uguali una dopo l'altra quindi sicuramente potrei cambiare seed per fargliele randomizzare in un modo differente infatti adesso ce ne sono alternati in maniera un po' più verosimile vado a ridurre la distance la porto a 20 in modo che si sovrappongano un po' fra di loro e questo potrebbe essere un buon risultato sembra un po' una siepe intervallata con essenze di tipo differente non deve dare troppo nell'occhio ma non è neanche come dire troppo monotono giocando un po' sul seed sulla scalatura sulla rotazione sulla distanza riusciamo veramente ad ottenere una varietà straordinaria senza dover noi manualmente posizionare oggetti che ci porterebbe via un sacco di tempo andrebbe ad appesantire tantissimo il modello invece questo è tutto fittizio è tutto un qualche cosa che viene generato all'interno della finestra di rendering nella prossima lezione parliamo di alcuni altri tipi di oggetti dividerei